Din Don è il primo brano della pagina 10. Stavolta abbiamo finalmente tutte e cinque le note che possiamo usare con la mano destra. Nel brano successivo avremo anche tutte e cinque le note della mano sinistra. Stavolta il primo rigo e il secondo rigo non sono uguali come è successo finora. Torniamo a contare fino a quattro perché il numero in alto all'inizio del rigo musicale è il quattro. Quindi io conterò uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro e così via. Qua questa nota prenderà il tempo nel quale io conto uno, due, questa nota il tempo nel quale io conto tre e quattro. Stessa cosa per queste due note. La mano sinistra fa molto poco, due sol e un sì. Tutto il resto è fatto dalla mano destra. Suono questo brano due volte consecutivamente. La prima nota contando ad alta voce, la seconda volta in silenzio contando solo nella mia mente. 2x3, 4x4 1, 2, 3, 4x4 1, 2, 3, 4x1, 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 2, 3, 4x1. 3, 4x1, 2, 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 3, 4 Grazie a tutti.